Un cimitero di siringhe emerge dalla boscaglia del parco Miralfiore. Sorpresa al processo Alessandrini, il PM chiede 24 anni anziché l'iniziale ipotesi di ergastolo. La provincia cede l'ex job per finanziare la ristrutturazione del campus. Lavoro in corso per il Natale a Pesaro, accensione dell'albero il 30 novembre. Calcio non si ferma alla corsa della Vis, spugna Gubbio ed è ora sesta in classifica. Buonasera a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati ad un altro appuntamento con l'informazione serale di Rossini News. Telegiornale di mercoledì 30 di ottobre che apriamo occupandoci nuovamente della situazione dal parco Miralfiore di Pesaro, ritenuto centro nevralgico dello spaccio di droga, ma anche del suo consumo, come mostrano le immagini che vi proponiamo in questo primo servizio. Decine di siringhe e svariato materiale riconducibile al consumo di sostanze stupefacenti e di alcol sono state trovate questa mattina nel boschetto e negli anfratti più nascosti del parco Miralfiore in un'operazione di pulizia ambientale organizzata dal centro di recupero pesarese Narconon Alfiere. Operatori e ragazzi ospiti del programma riabilitativo si sono rimboccati le maniche con guanti e sacchi della spazzatura per un'operazione di sicurezza, decoro e tutela ambientale che dà un'ulteriore sottolineatura alla piaga di spaccio tossicodipendenza all'interno del parco. Siamo qua al parco Miralfiore, noi operatori insieme ai ragazzi. Sono 30 anni che noi operiamo sul territorio e combattiamo contro l'uso di alcol e droghe. Questa iniziativa è partita per rintegrare i ragazzi nella società perché comunque il nostro percorso è un percorso pedagogico che sfrutta proprio queste iniziative per poter aiutare i ragazzi nel loro percorso di riabilitazione. Oggi abbiamo trovato più di 30 siringhe e una cinquantina se non un centinaio di bottiglie di birra. Nel parco Miralfiore vengono molti tossicodipendenti e qui però vengono anche le famiglie. Il nostro obiettivo è ripulire questo parco per far sì che le famiglie con i loro bambini riescano a viverlo al meglio. Vivere fuori l'esperienza senza aver fatto uso di droga per me è una cosa molto emotiva perché ritrovi le emozioni che non hai ritrovato quando facevi uso di droghe. Uscire dal programma per me è una cosa nuova perché rivivo le giornate, la routine e tutto. molto più tranquillo, sereno, ho ritrovato la pace in me stesso. Mi vivo la famiglia, mi vivo il lavoro, mi vivo la giornata, la quotidianità più tranquilla, più serena e soccondendo del mio percorso che ho fatto al Narconon perché rinasci da tutto. Portiamo i ragazzi a riabilitarsi alla vita dal lato umano, dal lato sociale. In più abbiamo iniziato questa giornata con la collaborazione del sindaco e due assessori di Pesaro e siamo contenti di questa collaborazione perché entrambi siamo sul territorio, noi come Narconon, Alfiere e tutto quello che è la politica di Pesaro e quindi siamo soddisfatti di questa collaborazione. Oggi nel Tribunale di Pesaro si è chiusa la fase dibattimentale del processo a carico di Michael Alessandrini, reo confesso dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri con 23 coltellate inferte gli eventi di febbraio 2023 nella casa di Via Gavelli. Oggi le conclusioni del PM Silvia Cecchi hanno prodotto una memoria del magistrato con la richiesta di una pena di 24 anni anziché dell'iniziale richiesta di ergastolo. Per la difesa di Alessandrini si tratterebbe di una soddisfacente sorta di bilanciamento fra le attenuanti della semi-infermità mentale e le aggravanti di crudetà e premeditazione contestate nel delitto. Oggi è stato sentito in corte d'assise il consulente medico legale di parte civile Andrea Mancini mentre è stato richiesto un supplemento di testimoni per il 4 dicembre quando saranno ascoltati Gabriele, amico di Panzieri di Alessandrini che all'ultimo disertò la cena del delitto su richiesta di Alessandrini e Giulia, ragazza presunto oggetto del desiderio conteso dallo stesso Alessandrini. E dal Tribunale passiamo al Municipio di Pesaro dove anche oggi sono stati presenti gli inquirenti della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pesaro sugli affidamenti diretti del Comune nei confronti delle associazioni Opera Maestra e Stella Polare. Inquirenti che oggi avrebbero acquisito altro materiale ma non risulterebbe un allargamento di indagati ai cinque soggetti già iscritti nell'inchiesta. Tagli governativi insostenibili ma fermo impegno a trovare risorse per garantire la manutenzione scolastica. Così per effettuare una strutturale ristrutturazione del campus scolastico di Pesaro la provincia ricaverà più di un milione di euro dalla cessione della sua quota del centro per l'impiego. Con fatica la provincia di Pesaro Urbino cerca di adempiere le sue funzioni di manutenzione di scuole e strade nonostante una mannaia di tagli di risorse dal governo centrale. In tal senso il campus scolastico di Pesaro che si ritrova alla mercè di allagamenti e infiltrazioni è stato messo come priorità assoluta. Si sta infatti già intervenendo per le criticità più urgenti ma da via Gramsci si predispone anche un progetto di intervento strutturale duraturo attraverso le risorse ricavate da oltre un milione di euro che la provincia incasserà dalla cessione alla regione Marche della quota provinciale del centro per l'impiego di Via della Robbia. Vendendo una struttura alla regione ci entreranno dei soldi praticamente la cifra sarà circa un milione di euro che andremo a mettere nel campus per sistemare veramente in maniera definitiva tutto. Poi è l'inizio di veramente una ristrutturazione di fondo di tutto il campus. Il problema è che sono anni, strutture abbastanza anziane perché vengono fatte negli anni 70 c'è stata una costante manutenzione ma secondo me, anche se non si può dire una cattiva progettazione perché un tetto piano dalle nostre parti crea e dà sempre dei problemi. Campus a parte, restano prospettive nerissime alla luce di un'escalation di tagli che non pare destinata a fermarsi. Quest'anno noi abbiamo avuto 750 mila euro di tagli il prossimo anno avremo altri 750 mila euro e nel 2026 350 mila euro di tagli poi abbiamo il patto di stabilità che entrerà in funzione nel 2025 ritornerà al patto di stabilità e si sa quasi per certo che sarà un 10 milioni di tagli su tutte le province italiane cioè le province sono ne parliamo anche a livello di UPI nazionale sono al collasso e bisogna ritornare a rifinanziarle e ridargli le funzioni e dargli la dignità che le province debbono avere. Dalle scuole superiori passiamo ad una scuola dell'infanzia che da comunale diventerà statale parliamo della giostra di via Filzi nelle quartiere di Pantano con il consiglio comunale di ieri che ha approvato la delibera con 21 voti favorevoli e 10 astenuti da sottoporre a provincia e regione per statalizzare appunto questo istituto. Una statalizzazione che abbasserà dunque la capacità ricettiva nelle scuole pesaresi per la fascia 3-6 anni portandola invece ad aumentare nel settore più critico quello degli 0-3 anni. Nonostante un periodo in cui le temperature toccano ancora i 20 gradi a Pesero si ragiona già sull'organizzazione delle prossime festività natalizie. Intanto è stata già fissata l'accensione dell'albero in piazza per il 30 di novembre in un centro storico che presenterà diverse novità dal punto di vista natalizio. È stata fissata per il 30 novembre alle ore 18 l'accensione dell'albero di Natale in Piazza del Popolo con il via alle celebrazioni delle festività pesaresi nell'anno di Capitale della Cultura che vedranno uno scenario di piazza diverso rispetto ai precedenti inverni. Aspettando di definire il timone organizzativo di un Natale che nelle scorse edizioni veniva coordinato da Massimiliano Santini il sindaco Biancani ha preannunciato alcune novità nel Consiglio Comunale di ieri a cominciare dalla gestione di festività alle quali saranno destinati 169 mila euro di risorse. Quest'anno innanzitutto diciamo che abbiamo fatto una manifestazione di interesse una sorta di bando, di gara per individuare il soggetto che andrà a organizzare il Natale del 2024. A giorni dovremo individuare l'impresa che quindi farà questo lavoro ma ci sono delle novità rispetto allo scorso anno. Innanzitutto il palco non sarà sotto il comune ma il palco sarà sul lato delle poste all'interno del palco ci sarà la biosfera perché penso che sia veramente come dire molto bella anche con tutti i messaggi e tutte le immagini che riesce a trasmettere. L'albero di Natale è confermato comunque sul lato del comune di Pesaro dall'altra parte ci sarà una pista per il pattinaggio che non sarà in ghiaccio noi stiamo puntando sulla sostenibilità le temperature ormai non consentono più di mantenere una pista di ghiaccio mi ricordo gli scorsi anni c'era la polemica che in qualche modo si vedeva come questo ghiaccio era difficile da poter mantenere e quindi c'era un consumo notevole di energia elettrica dall'altra parte non metteremo più le casette nella piazza del popolo ma andremo a distribuirle con i vari artigiani che vorranno essere presenti a Pesaro la andremo a distribuirle nelle vie o nelle piazzette sempre nel centro storico l'obiettivo è anche qui di quello di realizzare delle proiezioni sia sul palazzo della prefettura sia sul palazzo delle poste e anche creare tutto un cielo tipo stellato all'interno della piazza e restando in tema di piazza il sindaco Andrea Biancani interviene anche su una crescente tendenza a violare il divieto di sosta delle auto nella ZTL della stessa piazza del popolo purtroppo stanno ritornando le auto in piazza del popolo devo dire che era stato un percorso portato avanti dalla precedente legislatura dove si erano riusciti tutti in accordo a evitare che le macchine parcheggiassero in piazza ovviamente non parliamo di macchine solamente di solo i cittadini ma parliamo delle macchine molto spesso di enti o diverse istituzioni io penso che questa cosa non sia corretta e quindi ho invitato ieri mandando un messaggio sia alla prefettura sia al questore dove ho invitato tutti a rispettare quella che è l'ordinanza e far sì che le macchine non siano parcheggiate in piazza mi riferisco sia alle auto di servizio ma soprattutto alle auto magari del singolo personale che magari sta riprendendo l'abitudine appunto a fermarla in piazza io ricordo sempre che la città di Pesaro è una città dove ad oggi è presente un parcheggio scambiatore gratuito con una vetta gratuita che trasporta le persone fino in piazza è un servizio che poche città in Italia secondo me danno cioè tutto gratuito e quindi invito tutti soprattutto le istituzioni a rispettare quelle che sono le regole che come comune ci siamo dati ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo ad inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 Aldo nostro telespettatore ci invia queste immagini dal cimitero centrale di Pesaro dove emerge una situazione indecorosa per quanto riguarda le deiezioni di Piccioni e Colombi a due passi dai loculi un'altra segnalazione arriva da Riccardo che ci segnala la pericolosità di un tombino lasciato aperto in via Ariani così come Franco segnala questa buca enorme apertasi in via Martire di Fraghetto 3 segnalazioni per 3 diverse richieste di manutenzioni alle autorità competenti Continua l'impegno politico dell'avvocato Pia Perricci che dopo il percorso di candidatura amministrativa a sindaco di Pesaro con la lista civica Vieni Oltre ora sta strutturando la neonata associazione Evolviamo Pesaro Conta già un migliaio di tesserati la neonata associazione Evolviamo Pesaro fondata dall'avvocato Pia Perricci candidata a sindaco nelle ultime elezioni amministrative con la lista civica Vieni Oltre un impegno politico che prosegue nel solco della ricerca della trasparenza e del coinvolgimento della cittadinanza Io ho visto sempre nascere tantissime liste civiche o rappresentate come liste civiche però tutti questi candidati delle liste civiche spariscono del nulla una volta che non sono non si vincono le elezioni il mio invece era un voler cambiare realmente l'amministrazione comunale pesarese nel senso di renderla più umana e più vicina ai cittadini più partecipata dai cittadini con più possibilità per i cittadini di partecipare all'amministrazione comunale per questo motivo abbiamo pensato insieme a tanti sostenitori di far nascere l'associazione che si chiama Evolviamo Pesaro lo distingo perché la A di amo è maiuscola proprio perché significa evolviamoci con amore facciamo tutto quello che sinora nella società non è mai stato fatto perché c'è tanta burocrazia ma poca empatia noi vogliamo metterci la passione l'amore la faccia per cui sì è nata questa associazione che ha sede in via Adige 28 sarà inaugurata penso nella fine prima settimana della settimana di novembre perché ci sono ancora dei lavori in corso e è un'associazione pronta ad accogliere tutte le esigenze dei cittadini a portare avanti le esigenze dei cittadini e a continuare a scavare cosa che ci piace fare ma non perché vogliamo criminalizzare o vogliamo trovare un criminale semplicemente perché vogliamo la trasparenza amministrativa perché vogliamo che la politica sia una buona politica fatta nell'interesse dei cittadini ed ora informiamo i cittadini di Fano che sono emersi due nuovi casi di contagio da dengue nel quartiere Vallato e dunque il comune su richiesta dell'azienda sanitaria territoriale effettuerà una disinfestazione mirata nel quartiere e zone limitrofe disinfestazione che si terrà questa notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre da mezzanotte e mezza alle 6 di mattina si è spento all'età di 97 anni Don Valentino Giovanelli una delle figure più amate e rispettate della comunità ecclesiastica marchigiana per più di 70 anni Giovanelli ha dedicato la sua esistenza al servizio pastorale ed è stato lo storico parroco della chiesa Santa Maria della Scala del porto di Pesaro domani alle 15 il funerale nello stesso Duomo di Pesaro lo spettacolo delle compagnie amatoriali pesaresi sale sul palco della biosfera per la rassegna teatro in piazza in programma alle 17.30 di tre domeniche di un sabato di novembre a partire proprio da questa domenica 3 di novembre dopo il successo di pubblico ottenuto dalla preview del 5 ottobre con due icone dialettali pesaresi come Franca Mercantini e Carlo Pagnini l'omaggio al teatro amatoriale continuerà domenica col teatro Accademia e poi il 10 novembre con la piccola ribalta il 16 col teatro dei bottoni e il 24 con la compagnia Farò Follie e invece questo sabato 2 novembre alle 18 ai musei civici inaugura Vertigini all'imbrunire la mostra di Claudio Di Carlo a cura di Lorenzo Canova e Francesca Pietracci che offre una sintesi della produzione pittorica dal 2007 al 2024 dell'artista che vive e lavora a Tramburgo Pescara e Roma con questo progetto di Carlo Tornapesero dopo aver realizzato e donato nel 2018 un'opera dedicata a Rossini per la casa natale del compositore e sarà proprio questo lavoro intitolato Già la luna in mezzo al mare ad aprire il percorso composto da altre nove opere realizzate dal 2007 al 2024 in una panoramica del suo racconto pittorico Questa mattina in Piazza del Popolo abbiamo incontrato Ferdi Berisa imprenditore noto per la sua partecipazione e vittoria al Grande Fratello 2009 che sta ora per intraprendere un viaggio molto particolare E nata come una sfida personale diventerà una sorta di passaggio di testimone su pedali alla prossima capitale italiana della cultura Ferdi Berisa imprenditore peserese noto ai più per la sua vittoria televisiva al Grande Fratello 2009 durante il mese di novembre pedalerà per tutta la Sicilia con la prospettiva di completare il giro dell'isola su pedali Io tutti gli anni finita la stagione siccome noi lavoriamo intensamente a Pesaro mi prendo e mi faccio uno dei viaggi fuori dagli schemi eccetera eccetera altre volte ho fatto tutto a piedi e ho detto perché stavolta non proviamo la bicicletta che io non sono mai andato in bicicletta oppure l'ho usata pochissimo e ho detto adesso lancio un sondaggio su internet vediamo cosa mi consigliano tra le varie cose da fare strane ho chiesto ragazzi consigliatemi un viaggio una meta qualcosa di strano da fare come avventura nuova e la gente ha proposto fa il giro della Sicilia in bicicletta poi mi avevano proposto anche di fare lo stretto di Messina nuoto oppure di fare un cammino a piedi però i cammini già li avevo fatti uno dei miei cammini è stato anche attraversare l'Italia da costa a costa e questo viaggio poi è partito così tra una battuta e l'altra ho conosciuto i ragazzi della bicicletta Focarini che mi hanno insomma dato l'input e da lì ho detto boh potrebbe essere una cosa figa facciamola e secondo noi mentalmente è preparato fisicamente se non è pronto e non è preparato ha comunque un motore che lo sosterrà per tutta questa avventura questo territorio esprime una cultura a 360 gradi infatti qualsiasi giorno che usciamo di casa possiamo vedere lungo le strade lungo i sentieri di campagna qualsiasi persona di qualsiasi età che gira con delle biciclette sia elettriche che muscolare l'elettrica oggigiorno la fa da padrona perché riesce a mettere in gioco anche persone che con le proprie gambe non riescono più a percorrere dei chilometri abbastanza sostanziali però con l'aiuto del motore riescono a portare a termine la loro giornata la loro sfida le loro gare il sindaco Biancagni e gli assessori Vimini e Mengucci hanno salutato questa mattina in piazza la partenza di Ferdi investendolo anche del ruolo di ambasciatore della Bicipolitana e della Capitale della Cultura verso Agrigento prossima Capitale 2025 noi siamo la città di Pesaro una delle più conosciute per la Bicipolitana poi siamo fissati con la bicicletta poi andiamo in Sicilia e poi Agrigento città della cultura 2025 andiamo a salutarli e li portiamo un omaggio da Pesaro perché poi è una cosa figa che faremo anche i vari comuni che girerò porterò un omaggio di Pesaro a tutti i vari sindaci e dove vogliamo fargli un inbucca al lupo e poi fargli sapere che noi Pesaro si va in bicicletta e si arriva anche fino in Sicilia in bicicletta e concludiamo con lo sport perché continua l'ottimo momento della Vispesero che nel turno infrasettimanale di ieri ha espugnato il difficile campo di Gubbio per 3 a 1 seconda vittoria di fila e sesto turno utile consecutivo al Barbetti la visse è andata avanti dopo meno di due minuti con l'autogol dell'ex Stramaccioni su colpo di testa di Bove al quarto d'ora il Gubbio ha pareggiato con Rosaia ma poi gli Umbri sono rimasti 9 nel primo tempo per le espulsioni di Maisto e Proietti la visse ne ha approfittato subito in apertura di ripresa di Paola scaricato un colpo da fuori area che prima è sbattuto sul palo e poi sulla schiena del portiere Venturi un altro ex prima di finire in rete per il 2 a 1 a tempo scaduto è arrivato il 3 a 1 di Nicastro per una visse che si issa al sesto posto in classifica e domenica Albenelli aspetta la capolista Pescara si conclude qui questa edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo un approfondimento di politica questa sera quello di amministrando i nuovi sindaci usciti dall'ultima tornata elettorale di giugno questa sera andremo ad approfondire il recente percorso amministrativo intrapreso a Pergola dal neosindaco Diego Sabatucci appuntamento dunque questa sera alle 21 e 20 poi vi ricordo che l'informazione di Buongiorno Rossini torna domattina in diretta alle 7 e 20 con la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali altra diretta di altro genere è quella del giovedì sera con insieme a Canestro analizzeremo questo delicatissimo momento della VL con Elisabetta Ferri Alessio Zaffini e gli ospiti della puntata che saranno l'allenatore Luigi Gresta e il giornalista Matteo Fattori oltre naturalmente alla possibilità di interazione in diretta di voi tifosi al 370-366-7210 E dunque questi gli appuntamenti tra questa sera e domani su Rossini TV si conclude invece qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata sui nostri programmi e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio